Teresa A. Scompenso psicotico in personalità isterica. Decreto di ricovero numero 5050. È stata una ragazza brillante e viva, però non ha mai avuto una relazione stabile. Ereutofobica. Vaginismo nei rapporti sessuali. Angosciata da impulsi e desideri omosessuali. Sogna spesso di aver rapporti con la madre, che detesta. Ho terrore degli altri? Che se m'accosto a loro non m'accolgano. Mi buttino via come un barattolo vuoto. O musino come un cencio. O peggio. Mi invischino nel loro miele. Mi svuotino. Riempiano di stoppa il mio cervello. Bevo dalla bottiglia il fiele che stortisce. Ereutofobica.